alice non mi chiamai ogni minuto che non rispondo più, quello che vuoi, quello che vuoi, parla con papà. Usciti, è una bella giornata, guardate! No, ci sono le lezioni, le lezioni non vanno, comunque il sabato non vanno, a me le scuole di Napoli, ma quasi nessuno, qualche liceo, le medie sono quasi nessuno. Non mi chiamano, non mi chiamano, ma io mi chiamano. No, non le quattro, non le quattro, non le quattro. No, la via esce tutti i giorni alle 2.00. E' un'altra domanda, non ho un'altra domanda, è scelta di venire. Poi, va, eh! Perché, va, 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 va. Ma che patte è? Io ha abito il giorno, non ho un'altra domanda. Ma, non lo vieni inizia? Sì, va. Ma, non lo vieni inizia? No, non lo vieni inizia. Ma, non lo vieni inizia? No, non lo vieni inizia? No, non lo vieni inizia. La nostra buona è quella. Dicò poi anche tutto c'è il file. E' moltoissimo. E' questa qui è pericolata di vedermi. E' questa qui è pericolata? E' questa qui molto commenta la��. Pericolata è un po' di avere un po' di più band Regardless. qui fai il giato Che numero sei? Pronto? Solo questo, ma come si fa a vedere che numero è? Impossibile Allora, cercare di avvicinare un attimo Pronto? Impossibile Ma non ce l'ha proprio nulla la nostra madre Vabbè, comunque non è tra i primi sedici Seguiamolo Seguiamolo Non lo riesco a vedere, lo sto seguendo Ma non lo vedo nulla Eh, lo so, lo so, però lo sto seguendo Perfetto? Perfetto Ok Non lo so 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 Alfonso, 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 Cucchia rossa, questo è Cucchia rossa. Grazie.